Sono Nunzia Terlizzi, arrivo dal Piemonte sul Lago Maggiore, ho 57 anni e ho incominciato il mio percorso ad ottobre dell'anno scorso col primo step facendo arcata superiore ed inferiore e sono tornata qui adesso a luglio per poter fare i definitivi, il che risultato si vede, mi piace un sacco ho trovato molta professionalità tra tutti, staff, protesisti, chirurghi, logistica, insomma mi sono trovata veramente molto ma molto bella Io ho perso tutti i miei denti a causa di piorea circa 14 anni fa e il che mi ha portato a decidere di provare questa esperienza prima mio marito, dopo io l'ho seguito e lo rifarei e lo consiglio vivamente a chiunque voglia migliorare questo grande problema che spesso parecchie persone si trovano ad affrontare